...legato con noi via Skype, bentornato e buon anno! Buon anno, buon anno anche a voi! Spero che vada tutto bene, ma il primo commento che ti chiedo di condividere con noi riguarda qualcosa che va tutt'altro che bene, ovvero quello che è accaduto questa notte a Washington. Sì, credo che nei prossimi settimane, nei prossimi mesi avremo tempo e modo di valutare una cosa che cambia, cambia il modo di guardare la democrazia americana, la patria della democrazia. Bisognerà riflettere su quanto il continuo a secondare le paure, la pancia, gli istinti, di chi risponde alle paure mettendosi contro le istituzioni, mettendosi contro chiunque sia diverso, a secondare queste cose poi produce e rischia di produrre appunto rotture come quelle dell'altro giorno che non sono gravi soltanto per la violenza che c'è stata, non sono gravi solo perché alla fine ci sono prodotti feriti, ci sono stati quattro morti. Però è evidente che la gravità più grande dal punto di vista politico è dal fatto che gli incidenti di ieri, l'insurrezione di ieri contro le istituzioni è stata direttamente a responsabilità di un presidente che per due mesi ha cercato di non riconoscere la legittimità di un voto, contestare la vittoria democratica di Biden, di mettere in discussione tutto appunto, diffondendo messaggi che hanno poi alimentato ciò che abbiamo visto ieri. Questo non era mai successo negli Stati Uniti, non era mai successo che un presidente non riconoscesse quasi subito, nelle ore, nei giorni successivi alle elezioni, la vittoria di un altro presidente. Io penso che sia molto grave quello che è successo, in tutto questo c'è un fatto positivo che le istituzioni americane hanno retto, hanno dimostrato la forza della democrazia, che già ieri sera, appena sgombrato l'emiciclo, le Camere si sono riunite e hanno proseguito a fare ciò che stavano facendo, cioè a riconoscere e a certificare l'elezione di Biden, che era quello che si era cercato di impedire e questo si è fatto con l'accordo di democratici e repubblicani, quindi tutte le forze democratiche del paese si sono, al di là delle differenze, si sono ritrovate nella difesa della democrazia nel far andare avanti i processi costituzionali. Parlando invece di futuro dell'Italia, poco fa sono uscite due agenzie ANSA che ridisegnano i numeri legati ai progetti del recovery fund, ovvero salgono a 222 miliardi di euro stanziati per gli investimenti, di cui la sanità andrebbero 19,7 miliardi di euro. E questo significa che insomma c'è stato un ripensamento nel governo per quel che riguarda soprattutto il capitolo sanitario. Sì, leggeremo bene, giustamente in maggioranza si è guardato al primo documento del governo, le forze politiche hanno fatto, e non c'era bisogno di fare ricacchi e dare ultimatum, hanno fatto delle osservazioni, molte delle quali sono state raccolte dal governo, hanno questa, di arrivare a 19 miliardi e 700 milioni per la sanità, sicuramente una buona notizia, si assommano a altri miliardi che abbiamo messo nella legge finanziaria, ma ci sono altre buone notizie, noi abbiamo insistito in queste settimane perché si riducesse il numero dei bonus e si aumentasse il numero degli investimenti, cioè che si desse più respiro alle iniziative finanziate con il recovery fund, questo c'è, ci sono finanziamenti sull'alta velocità, sul sud, mi pare un piano che tiene conto di un'idea di paese più green, in cui appunto si guarda un'economia sostenibile, si guarda l'innovazione, si guarda la ricerca. E poi un'ultima domanda che riguarda il libro pubblicato dal viceministro Sileri, viceministro della sanità, che si intitola Covid segreto, perché restituisce un quadro piuttosto a tinte fosche di quello che è il comitato tecnico scientifico, nazionale, che definisce come una struttura basata solo sulla spartizione del potere, romano-centrica e non efficiente. Parliamo di qualcosa che ovviamente ha impatto, è come se ce l'ha in questi giorni sulla salute di tutti i cittadini italiani. Lo puoi liquidare, passami questo termine, come un capriccio del libro, parlo? No, no, io penso semplicemente questo, che in questo momento i cittadini italiani meritano istituzioni e forze politiche e parlamentari che si occupano soltanto di dare risposte al meglio ai problemi che hanno di fronte. Oggi c'è il tema della campagna vaccinale e mi pare che complessivamente siamo il primo o il secondo paese nella UE, nell'Unione Europea per vaccini fatti già in questa settimana. Penso che si dovrà fare un salto di qualità nei prossimi giorni. Certo ci sono regioni che sono rimaste indietro, io trovo scandaloso il fatto che la regione Lombardia sia al terzo e ultimo posto per l'utilizzo dei vaccini che gli sono arrivati. Abbiamo bisogno di affrontare la pandemia guardando i dati che di giorno in giorno ci dicono che la pandemia non è sconfitta, il numero dei contagiati è ancora troppo alto, l'RT è ancora troppo alto e dobbiamo ogni volta, il governo deve ogni volta misurare le iniziative sulla base di ciò che ci dicono i contagi. Nei prossimi giorni avremo un'altra prova difficile come quella della riapertura delle scuole e quindi io se fossi Sileri mi concentrerei sulla necessità di affrontare questi temi al meglio. Poi ci sarà tempo e modo, nei prossimi anni ognuno scriverà le sue memorie, che racconterà come sul proprio punto di vista. Io penso che è evidente che il Comitato Tecnoscientifico ha avuto molte incertezze e che il governo ha dovuto spesso decidere sulla base dei dati ma anche sulla base di una sensibilità che ha privilegiato, e io credo giustamente, la sconfitta della malattia ad ogni... Franco Mirabelli, scusami, io devo chiudere... Ti prendo ogni cosa, ho finito, scusami. Mi stanno facendo dei gesti brutti ma in modo educato. No, no, non devo dire questa cosa, va bene. Grazie senatore Franco Mirabelli, partito democratico. Grazie a voi, grazie a voi, ciao. E adesso c'è mica.